Genova infrezione sul tempo massimo comporta una penalità da aggiungere ai due errori 9-2-4 in 77.99 Grande gara questa mattina in sella al suo Fixed Design Amerigo il campione d'Italia Young Rider in carica Filippo Bologni in sella Fixed Design Chopin Il campione d'Italia Young Rider Filippo Bologni per l'Italia Fixed Design Chopin Ogni Pan Mora Grazie a tutti. Grazie a tutti.